Si torna a respirare in Lombardia. Migliora infatti la qualità dell'aria. I dati rilevati nella giornata di sabato 8 dicembre evidenziano il rientro dei valori delle polveri sottili entro i 50 microgrammi per metro cubo in tutte le province, in particolare a Milano, Monzebrianza, Lodi, Pavia e Cremona, comuni con più di 30 mila abitanti oltre a quelli aderenti su base volontaria, interessati dall'attivazione delle misure temporanee di primo livello. Per questo Regione Lombardia, dopo la revoca delle limitazioni a Mantova, ha dato il via libera per lo sblocco anche negli altri territori interessati dai provvedimenti attivati venerdì scorso. Anche le previsioni di oggi sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti.